Con la variazione di bilancio il Consiglio regionale ha stanziato martedì scorso 500.000 euro per la realizzazione degli espropri, per la realizzazione del secondo lotto della variante di San Lorenzo in campo. È un'opera importante questa che rischiava di essere un'incompiuta perché la viabilità sulla strada cesanense e sulla strada pergolese ha una sua complessità, una strada molto trafficata nel centro di San Lorenzo in campo ha delle problematiche piuttosto serie. L'opera era stata realizzata nel primo stralcio, nel primo lotto da parte della provincia di Piesa Urbino, poi il blocco delle risorse dovuto al patto di stabilità non ha consentito la realizzazione della seconda parte dell'opera e quindi il completamento della stessa. Ho seguito con il sindaco, con l'amministrazione comunale ma anche con gli altri amministratori del territorio questo problema e siamo arrivati alla conclusione di stanziare le risorse che sono andate a bilancio proprio martedì scorso per completare l'opera. Quindi l'opera sarà completata e con i 500.000 euro sarà possibile da subito espletare gli espropri che altrimenti sarebbero andati a scadenza.